bello libero libero KTM 1290 se la registrazione è perdita in tempo l'ho beccato e sai che c'è sempre qualche secondo di attesa e adesso se per un po' non passa più nessuno che che si tranquillizzano si ho filmato che tu non lo faccio qua l'ho visto è un mezzo metro più alla tua destra sempre lì alla altezza del legno è più o meno la posizione giusta eccolo là l'ho visto proprio io andare su a metà la torrente si basta vai piano stai riprendendo? si stai riprendendo? 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 Grazie a tutti.